Sindaco Cosolini, oggi avete illustrato alle commissioni lo stato di avanzamento dei lavori per dare nuova vita al Porto Vecchio. Sì, abbiamo illustrato evidentemente le modalità con cui è stata condotta dalla commissione la gara per l'advisor e abbiamo anche illustrato il cronoprogramma che richiederà alcuni mesi di atti amministrativi per il completamento del passaggio della proprietà al bene del comune.